Le tasse sulla casa del sindaco di Roma. Nella capitale aumentano alcune imposte che riguardano la casa. I romani si sono visti nell'ultimo anno alleggerire le tasche proprio da colui che oggi dice al governo abbassiamo le tasse, Walter Veltroni. I comuni hanno potuto aumentare l'IRPEF grazie allo sblocco stabilito a fine 2006 dalla finanziaria 2007. Nella capitale quest'anno la crescita dell'IRPEF è stata dello 0,3% passando dallo 0,2 allo 0,5%. L'ICI è sceso dal 4,9 al 4,6 per mille ma è salita l'imposta per la seconda casa dal 6,8 al 7 per mille e quella sulle aree fabbricabili passata dal 6,9 al 9 per mille.